Dopo quattro giornate dall'ultima volta il Montegiorgio torna a festeggiare la vittoria. Il Tamburrini porta fortuna ai Rosso Blu che conquistano il derby contro il Tolentino grazie al rigore trasformato da Pampano nella ripresa. Montegiorgio che fa festa dunque, Tolentino invece che esce a testa bassa dal campo prolungando la striscia negativa. Gara molto equilibrata quella fra Rosso Blu e Cremisi che alla fine, come prevedibile, si risolve grazie agli episodi. Montegiorgio in completo bianco che si schiera con il consueto 4-3 mister Giallunga De Angelis è assente, causa influenza al suo posto in panchina Cervigio Andrea Del Gatto. Davanti manca lo squalificato albanese, tridente in cui trovano spazio quindi Pampano e Cardoni ai lati di Antichi. Resta invece in panchina Berpepai che lo scorso maggio proprio contro il Tolentino segnò la rete che regalò la salvezza diretta al Montegiorgio. Tolentino invece che si presenta al Tamburrini in maglia nera con banda Cremisi. Mister Mattoni sceglie il 4-3-3, Marcelli giostra in cabina di regia mentre nel tridente offensivo ci sono Alaecia e Lattanzi a supporto di Vitiello. Match che inizia con il Montegiorgio che prova a fare la partita mentre gli ospiti si difendono con ordine provando a colpire in contropiede. Al settimo in genitore di Moro che intercetta la palla con le mani fuori dall'aria ma viene graziato dall'arbitro che decide di estrarre soltanto il giallo. Sugli sviluppi della punizione del seguente, Morganti va sul fondo e mette in mezzo per Cardoni che ci prova di testa ma Moro si riscatta salvando sulla linea. Il Montegiorgio sembra avere maggiore brio e il ventitresimo avrebbe un'altra occasione per trovare il vantaggio. De Angelis recupera palla al limite dell'aria e lancia Pampano che si ritrova un'autostrada per correre verso la porta avversaria. Arrivato al limite dell'aria però l'attaccante calcia malamente sprecando tutto. Quattro minuti dopo i padroni di casa reglimiano per un tocco di mano in aria sul colpo di testa di Monza ma l'arbitro non ha dubbi e lascia proseguire nonostante le proteste. Due lampi che però non riescono a far decollare una partita molto contratta con le due formazioni che non concedono un grande spettacolo al pubblico presente. Nella ripresa le due formazioni si presentano sul terreno di gioco senza effettuare sostituzioni. La gara sembra però vivaggizzarsi fin da subito e il Torrentino trova la prima vera conclusione verso la porta di casa con Tizzi che riceva a centro dell'aria e calcia ma Ferconesi è attento e para. Il Monte Giorgio quattro minuti dopo con una doppia chance incredibile sprega la possibilità di passare in vantaggio. Pampano crossa in mezzo trovando Gardoni che di testa colpisce la traversa. La sfera torna sui piedi di Monza che ci prova a botta sicura ma Moro si salva in truffo. Sul capovolgimento di fronte Tizzi va al cross basso la palla attraversa tutta la linea di porta senza che nessun calciatore cremi si riesca a deviarle in rete. L'episodio che cambia in qualche modo la partita arriva al ventunesimo dal dischetto si presenta Pampano che spara una botta forte sotto la traversa trovando la rete del meritato vantaggio rosso-blu. Il Torrentino sotto di due uomini e di un gol deve rincorrere ma per i cremisi la vita è davvero dura perché sul forcing che apportano il Monte Giorgio prova a ripartire in contropiede ma per ben due occasioni i rosso-blu spregano la possibilità di raddoppiare. Al triplice fischio è quindi il pubblico rosso-blu a poter festeggiare finalmente la vittoria mentre il Torrentino viene richiamato dai suoi supporter sotto al proprio settore. Mister Delgatto dopo quattro partite tornate a vincere era una gara molto equilibrata stavolta però la fortuna è stata dalla vostra parte. Beh io non parlerei di fortuna parlerei che in un campionato alla fine le partite dove magari gira meglio o gira peggio si equivalgono e oggi al di là di questo aspetto se vogliamo puntualizzarlo c'è stato anche l'aspetto che la squadra ha voluto portare a casa quello che ci avevamo prefissato in settimana con il mister Entre Angelis che purtroppo saluto sta a casa che ha la febbre. Quindi possiamo essere solo soddisfatti della prestazione dei ragazzi. Poi la partita è stata una partita molto equilibrata all'inizio molto nervose due squadre che sapevano l'importanza della partita e quindi badavano più a non prenderle che a darle. Poi il secondo tempo è stato lo stesso equilibrato fin quando magari gli episodi siamo stati bravi a portarli dalla parte nostra e a crederci fino alla fine. Mister, una partita decisa da un episodio nel finale come vede questa prestazione del Tolentino? Sapevamo che è una partita probabilmente sporca, non bella tra due compagni che magari viene da un momento negativo. Noi come squadra stiamo pagando un po' il periodo inizialmente eravamo un po' impauriti e non ci possiamo permettere. Questo è qui al di là degli episodi, non so neanche quello che è successo mi sono trovato in nove e in pochi minuti. Ma quello che ci dobbiamo far riflettere è che non possiamo essere accompagnati dalla paura. Questa squadra deve venire su ogni campo e deve cercare di liberarsi di questo fardello perché se no facciamo fatica dobbiamo lottare su ogni palla, ogni contrasto e noi ogni minuto della gara è il minuto della vita e non ci possiamo magari permettere disattenzioni poi non sono gli episodi di quello che è successo.